Sì, via! Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Cacciatori di Zombie Sono Gabriele e come al solito sono in compagnia di Samuel e Damiara e Cristiano Allora, oggi vi presenteremo come promesso una partire in originale su città e sullo zombie Una cosa che ho dimenticato di dirvi nel video multigiocatori di questa uscita E' che vi consiglio di andare a guardare il canale di Roberto e Paolo Ovvero il Code of Duty, perché fanno video davvero molto interessanti e sono davvero molto bravi Un altro canale che vi consiglio di andare a vedere è quello del solito idiota Che è quello di Angelo, ovvero il fratello di Roberto Ma non so fuori? Sì! E' che lo voglia? Così non lo apre il suo occhio Sì! 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 Chi è che ha ammazzato i miei zombie? Io? No! Sì! 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 Oh ma l'angolo zombie posso ammazzare? Ma se c'era andando ieri, che cazzo non ammati? Ma io ero qua, ho visto lo zombie e me lo sono preso Ma io ero qua, ho visto lo zombie e me lo sono preso Questo è il mio Ma io ancora non ci sono ancora 20 zombie Io ho 470 Io ho 480 E cos'è che vuole? Da me Ma sei culo! Io lo scuro perché mi vado a cercare di zombie C'è io non so Mio! Qua è? Qua adesso? Sì! Ma adesso? Sì! 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 Mi sento così rosso Che signifosi di nuovo? Mio! Ma quello che scende è mio! E prendilo! Che buono! Sì! 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 Ora non c'è più mio! No! Perché siamo tutti i vari! Non ho mangi così! No non siamo tutti i vari! Ah sì! C'è chi ha 200! Bravo! Ha fatto più ci sono! No! Vabbè il primo grande è... Non è che è bravo! È il culo perché hai il modo di forza perché mi vuole! Non è quello che devo fare a cercare! C'è la... A cercare! È induito dai! Mettiamola così! Oh! Quello che escerà è mio! Quello che esce qui è mio! No! Al secondo round non ce n'è mio! Sì! Ma no! Ok! Ma non siamo tutti a pari quindi! Ora faccio edge! Non siamo tutti a pari quindi! Ma perché lo spavolo? Ma perché lo spavolo? Tutti qui! Tutti qui! Stavano controllate gli altri! No! Tutti qui! 80 zombie! 80 zombie! Me li fai uccidere e poi voi morite perché ci sono gli altri! Che buona! Vieni a cercare di essere stupide! Puta te! Portata che non ho morito! Vaffanculo va! Vaffanculo va! Cioè prima non mangio e poi muore va! Io sto morendo in coordinazione! No! Sai! E chissà perché! Ma che c***o! Vaffanculo va dalla mia vita zombie! Vuoi? Uccida! Vado ammazzare un po' per cuore! Io sto venendo a prendere una cassa! Io pure! Prima mia! Prima mia! Ma che tu prima io! Ma vuoi volare già a comprare? Che coglione! Ma che c***o! Ma che c***o! Ma che c***o! Ma che c***o! Mi vuoi capire un po' di buono! In merdine! Si la fai tonneee! Ma sei c***o! Ma sei c***o! Mi vuole capire un po' di buono! C***o buono! Buonissima! Buonissima! Iper super! Io c***o in nuovo! A me basta un loro! Si è tu un po' che c***o! Non te che! Grazie ragazzi per il dà il conale! Io non sono come te che per uccidere un po' di zombie devo avere gonne down però! Ma non pure io! No! Io ho la Python! Ma cosa devo usare? Siamo in originale, vedi! E che cambiano, che gli zambi muoiono dopo! No, ma a me che faccio? Siamo al terzo grande di originale! E allora... E allora... E poi la seconda cambia con il zambone? Eh, grazie! Infatti non mi è capitato mai! Vabbè... Io sono testi! Vado! Non lo c'è! Vorrei abbia un bello all'istante! Vabbè, non c'è bisogno! L'ho visto! Cosa? Non c'è bisogno! Non c'è bisogno! Aiuto! Aiuto! Un attimino! Vabbè, arrivo io con le baglie! L'istante! L'istante! No, no, no! Muori, tetto cazzo! Muori, zambi! Aiuto! Allora, rianimate! Ehi, mi sto rianimando! Prende la cassa! Rianimo uno e muore! Prende le capume fuori! Rianimatevi prima! Cingono! Cingono! Fermo! Dove capume? No! Aspetta prima! Rianimo! Damiano! Ma che cavolo fai? Ma che stessa? Ma come sei mio? Prende! No, non siete studiati! C'è Damiano è studiato! Ehi, no! Perché non ti stavo rianimando! Ma prima mi rianimo qui! Ti lasci perdere! Ma prendermi da boh! Mi sono bravamente oggi! Ehi, hai rianimato! Ehi, ehi, ehi! Amma buona! Amma buonissima! Ma perché dovete dire Amma buona? Allora, la prossima cassa è mia per piacere! Perché... Amma buona per Gabriele! E poi lo sbuno è bellissimo! E' buonissimo! E' buonissimo! E' meglio con questo lino iniziale! No, disco! Ce l'avevo dietro! Ma perché non me lo dite? Beh, non usare la Python! Scusate! Se mi dite che non devo usare la Python a questo ramo! Ma voi dovete usare la Python a questo ramo! La sto usando! Mi avete visto che mi stacere! Oh! Ma io ho fatto la pistolina! No! Voi copritemi! Camera! Che camera dà? Venite per favore! Mi sto comando casi! Ci sono gli zombie! Ma io sto usando ultra molto! Venite! Veloci! Sto recranicando! Camera! Quanto di tutto l'ho presa! Ma io? Per quanto? Damiano! Ma io sto rientimando! Aspettami ragazzo! Ma chi è? Io trovo che aspetto qui! Arriba! Capriere! Vai! Arma buona questa nuova! Sì! Grazie! Ma che è tu? Neanche l'arma! Nooo! Non devi aprire questa nuova! Non so! Calmatevi! Non so dove è il mio lavoro! Ma guarda! Siccome hai detto neanche l'arma! Neanche l'arma! Ho detto neanche l'arma! Ah! 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 Mia casa! Ah! Non è tu! Ah! Chi ci arriva e ci arriva! No! Allora! Se vuoi dire! Certo! Ah! Ah! Chi ci arriva e ci arriva! No! Non è chi ci arriva e ci arriva! Avvisi perché no! Ah! Parlao! Perché no! Io! Tu l'hai detto! Arma buona per Damiano! Grazie! Troppo tardi! Perché ero tu troppo tardi! Arma buona per Cristio! Grazie! Vieni! Vieni! Dommi il mio! Dommi il mio! Chi ha le 5 mamma insieme a me? Io! Ora diciamo... Arma... Arma di merda per tutti! Sì! Vieni! Vieni! Vuoi morire? Vuoi morire? Ti è piaciuta? Vieni! 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 Sto ammazzando! Mi ripeto! Mi ripeto! Mi ripeto! Mi ripeto! Mi ripeto! Aiuto! Io sono l'unico che non sono notte come quella volta! No! Il controllo! Il controllo! Ma ci credo! Ma chi è questo credito? Io ci credo! Ci credo con la vai! Non ci credo con la moglie! Ah, grazie! Aspetta lo dice! Il prossimo! Arma di merda per chi? Per chi? Per chi? Per me! Per me! Arma di merda per Gabriele! Stupido! Arma di merda per Gabriele! Sì! A presto! Ma vi le fanno! Mi sono morti queste casse! No! Non sono morti il carabob! La fate vendere la cassa? Grazie! Scusa Gabriele! Scusa Gabriele! Scusa Gabriele! Gabriele scusa! Mamma mia due oltre ho preso! Che sparco io! Gabriele scusa! fai tonnex chiudere! che schifo! sono fuori! come sempre sono due pistole uguali tutte e due quindi si tristano quince di uno hanno one shot one shot tutte e due lo sai che significa one shot l'ho capito, l'ho intuito si tratta per fuori ma la lascete ragazza vi prego ma io l'ho persa fai me la prenderò in me no scusami l'ho persa aiuto ragazzi si è chiusa la prima parte di zombie fammi prendere la prima di sera vabbè si è finita la prima parte del nostro video arrivederci alla prossima